Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete notato dai post su Instagram e Facebook io e la Mezzoroia ci siamo trasferite. Il motivo principale è che lei aveva bisogno di un periodo per stare lontano dal stress delle gare e della scuderia, quindi abbiamo deciso di portarla a qualche alco Pineta dove sta praticamente tutto il giorno fuori al pad insieme ad altre cavalli. I prossimi video infatti saranno incentrati principalmente sulle passeggiate nel parco e sulla terra. Adesso vi lasciamo al video, speriamo vi piaccia e noi ci rivediamo dopo. Ciao a tutti! 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 A mezzo è l'ultima, non si muove di lì! Ciao a tutti! Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare un video che riguarda alcuni segnali sul riconoscere un cavallo stressato in base all'esperienza che ho avuto con lei. Io e la Mezzoroia vi salutiamo e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!